Carissime amiche e amici della parrocchia di Sant'Arcangelo, di solito questi video li mando ai bambini, ma durante questi giorni del Trido Pasquale ho pensato di approfittarne per dire qualcosa anche a voi su questi giorni così importanti. Iniziamo dal primo giorno del Trido, il Giovedì Santo, in cui noi ricordiamo l'ultima cena di Gesù. Ecco, mi sembra che ci sia come una parola d'ordine in questa giornata, che è quella che Gesù dice ai Suoi discepoli durante l'ultima cena. Fate questo in memoria di me. I gesti dell'ultima cena li conosciamo bene, li rinnoviamo ogni volta che celebriamo la messa, Gesù ce li ha consegnati, ma c'è un altro gesto importante che Gesù compie in quel giorno, ce lo racconta l'Evangelista Giovanni, è il gesto della lavanda dei piedi. Un gesto che noi ripetiamo liturgicamente solo una volta all'anno, il Giovedì Santo, nella messa della sera. Dice l'Evangelista Giovanni che Gesù in quella sera, mentre era a cena con i Suoi discepoli, si alzò da tavola, depose le sue vesti, si spogliò e si cinse i fianchi con un asciugamano e passò a lavare i piedi dei Suoi discepoli, compiendo il gesto che di solito fa un servo. Ma la cosa più interessante, andando avanti in quel testo del capitolo 13 di Giovanni, è che dopo aver compiuto questo gesto Gesù chiede ai Suoi discepoli, avete capito quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io lo sono. Ebbene, se io, il Signore e il Maestro, ho fatto questo per voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. E qualche versetto più avanti dirà da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco allora, amici, mi ha colpito questo fatto, in modo particolare quest'anno, in cui non possiamo celebrare l'Eucaristia. Gesù ci ha lasciato il Giovedì Santo con due gesti. Uno non lo possiamo vivere, ma l'altro sì. L'altro lo possiamo vivere, lo possiamo vivere tutti i giorni, ma in modo particolare, proprio in questa serata, oggi. Perché non farlo nelle nostre case? Perché non rinnovare questo gesto importante di Gesù? Nessuno è impedito dal farlo, non ci vuole un prete per fare questo gesto. Gesù ce l'ha consegnato come la testimonianza grande del suo amore, come il suo donarsi e ci ha esplicitamente invitato a compiere questo gesto gli uni verso gli altri. Qual è il luogo più semplice in cui vivere questo gesto? È proprio la famiglia, la nostra casa. Allora sarebbe bello questa sera, prima della cena, se provassimo a rileggere quel brano del Vangelo, i primi versetti del capitolo 13 di Giovanni e poi semplicemente i genitori possono mettersi a lavare i piedi ai propri figli, in un gesto che non è necessario, ma che è un gesto che testimonia la gratuità dell'amore. Questo gesto Gesù l'ha fatto in quell'ultima cena come per profetizzare quello che sarebbe accaduto nel Venerdì Santo, come anticipazione, per dare come la chiave di interpretazione al dono di sé che avrebbe compiuto sulla croce. Ecco ci sono tanti modi e momenti in cui all'interno della famiglia noi ci doniamo gli uni gli altri, ma questo gesto rimane un gesto importante. In quest'anno in cui celebriamo la Pasqua nelle nostre famiglie, in cui Gesù ci dice farò la Pasqua da te, ecco noi possiamo vivere questo gesto nelle nostre case. Fate questo in memoria di me. Buon giovedì santo amici.